i dramezzini senti la voce nonna fallo un po' tu che non ci riesco fallo un po' tu oh madonna madonna fallo tu nonno non lo vogliono fare raga fallo un po la magna la bruschetta? si tutta? non lo so una si però sto aspettando che tu mangi metterai mano fra due ore ma ti piace così tanto che la vuoi? ma no la mangio per mangiarla si faccio vedere come la mangi amma com'è buona?